Io sto notando che ancora oggi che viviamo un momento di grande difficoltà dal punto di vista social e economico, prevalgono scolte, prevalgono numeri, prevalgono posizioni tattiche, ma io ancora oggi non riesco a servire un po' di responsabilità da parte di chi è addetto ai lavori e non ho servito che manche sempre la parola strategica. Noi per quanto riguarda i servizi che cosa dobbiamo fare? Non siamo dei burattini da manovrare per mettere insieme una maggioranza e votare questo o quel consiglio di amministrazione. È duro l'attacco del sindaco di Summonte e quei partiti che all'alto calore, come in altri enti, pensano di fare il bello e cattivo tempo, chiedendo ai primi cittadini di allinearsi su decisioni calate dall'alto. Con questa convinzione Pasquale Giuditta ha convocato alcuni sindaci per discutere di gestione dell'acqua, ma non solo, anche ad esempio di rifiuti. All'incontro presenti i primi cittadini di Lioni, Grotta Minarda, Montoro, Montella, in sala anche i sindaci di Nusco, Venticano, Ospedaletto, Capriglia, insieme ai sindacati di categoria. Unanime la bocciatura sugli ultimi tre anni di gestione dell'ACS. In futuro i comuni chiedono di essere coinvolti nelle decisioni in materia di acqua come di rifiuti. Invito questo rivolto anche al dirigente di Irpini Ambiente, Felicio De Luca, presente all'incontro. Duro il giudizio di Giovanni Gianniciello, che non risparmia qualche stoccata nemmeno al sindacato. Noi siamo per un ragionamento di progettualità e di programma. Non ci immischieremo nelle scelte di gestione che i singoli partiti presenteranno o gruppi di partiti presenteranno. Valuteremo persone, valuteremo idee, valuteremo proposte, ma tutte ampiamente riferite al progetto e alla proposta di gestione che c'è. L'iniziativa del sindacato. Come sempre, gli ultimi giorni ci dicono delle cose, a volte molto esagerate. Leggevo dalla stampa, incremento di 10.000 euro al mese. Signori, stiamo a parlare di ben altro, parliamo di questioni abbastanza diverse. E certo che quando si è trattato di fare ragionamenti di concertazione, sono stati alla concertazione. Oggi fanno bene ad alzare insieme a noi un po' col tiro. Per Giuseppe Demita, sindaco di Nusco, bisogna insistere sulle larghe intese tra i sindaci, così come in parte è riuscito all'Asi. Il fronte dei sindaci ha la forza per scavalcare quello dei partiti? Io non lo so, noi stiamo tentando in condizioni difficili, però l'operazione è politica all'Asi. Noi l'abbiamo immaginata, il voto è mio e di altri due sindaci, tengo a sottolinearlo a chi non lo sapesse. E' stato legato a questa prospettiva, alla votazione del bilancio e un impegno chiaro del Presidente su un'apertura politica, un accordo il più largo possibile. Non è che è finita qua. E' chiaro che se il Presidente, ma Giulio è una persona di grande correttezza, ma se per assurdo, per giochi politici, non dovesse mantenere questo impegno, noi abbiamo anche preparato un documento sul quale chiederemo conto dell'operato. Non è più il tempo delle furbizie o degli sconti. Poi mi permetto di dire che c'è chi è credibile nell'indicare questa linea, non solo io, anche altri, perché ci sono molti in questa provincia che sono liberi dai ricatti, dai condizionamenti e dai giochi politici.